Ciao a tutti, ecco una nuova ricetta di GuguinsiemeVicino.it La crema chantillyè colorata Abbiamo bisogno di una parte di crema pasticcera colorata che potete trovare in questo link. E' una parte di panna montata o tocchiata. Prendiamo la nostra crema pasticcera colorata. Prendiamo la crema pasticcera colorata. Girate dal basso verso l'alto altrimenti la panna si smonta. Ci vediamo alla prossima videoricetta di GuguinsiemeInCucina.it Grazie a tutti.